Allora, l'avrei detto anche se non mi avessi fatto questa domanda, semplicemente perché è difficile oggi, io dico, le chiamo le aziende detto fatto, trovare quelle aziende che fanno in tempo reale ciò che dicono. Io mi sono trovato bene con voi e non è la classica sviolinata di circostanza, come si dice dalle mie parti, ma quello che dico è certificato dal fatto che sei stato uno fra i professionisti che ho voluto presenti all'interno delle nostre scuole, ho voluto che prendessi parola con i giovani e questo proprio a dimostrazione di quanto ci siamo trovati bene con la vostra organizzazione. A ragione di ciò io rinnovo l'invito a settembre affinché tu possa raggiungerci di nuovo qui a Viterbo per parlare di quanto è importante la lettura, di quanto è importante metterci tempo e faccia ogni giorno in ciò che facciamo e quindi ti sto vincolando già da subito affinché a settembre tu ritorni qui ad incontrare i giovani. Perché ne incontreremo tanti, quest'anno ne abbiamo incontrati circa 25.000 da settembre a maggio e quindi l'impegno che abbiamo con i giovani, con i ragazzi è enorme. Sapere di essere affiancati da professionisti validi, seri, corretti ed etici è quello che dà il valore aggiunto al grande lavoro che facciamo ogni giorno. Sapere di essere affinché